Buongiorno a tutti in questa nuova puntata dell'OzioLod con il caro e amato The Divisir. Come state? Tutto bene? Prima di iniziare questa magnifica live come sempre, vi ricordo a tutti quanti che stasera non sono unico ad essere in live, ma c'è tanta altra bella gente di simpatica. Chi abbiamo in live soprattutto? Abbiamo il nostro Luke, Gittola, Raki, Karimaka, Narwer, Narumi, Darato e Chiara, Dedro, Liquid, Yeye, Norisawa, Patestrage, Armandus, Lotiranno, Glittero, Roger Steel, Axe Chan, Elixir e il nostro Kenos Twitch. Bene ragazzi, come tutti ben sapete, oggi è l'ultimo giorno. Eh sì, da domani, partendo dalle 5 ore pomeridiane, si concluderà l'ultima stagione di The Division 2 a caccia all'uomo. Io ho potuto completare solamente la quarta stagione, la prima l'avevo iniziata a metà, poi non ho avuto più il tempo di continuare e non ho potuto fare né la prima, né le ultime, seconda e terza stagione. Che purtroppo non ho potuto recuperare. Stasera concluderemo anche l'ultima mission slide e poi ci resteranno le missioni secondarie che faremo un po' man mano. In a te, se ti rilascio dei nuovi contenuti del gioco. Ho preso la medicina e ho concluso anche il mio ciclo di terapia. Bene, nel senso per il periodo di influenzare, che lo segui dalla lettera passo dopo passo. Grazie. 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 Hollywood. Allora. Ecco qua. l'ultima delle Roccaforti. Grazie a tutti. Poi il cappello da Babbo Natale. Grazie a tutti. 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 Vittoria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo un bel po' di scorte. a tutti. Grazie a tutti. 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 Rilevati ostili in arrivo Rilevato ostili con curanza pesante Rilevati 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 ostili con curanza pesante Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scorta chimica distrutta. La divisione ha distrutto la scorte! Falculo! Abbiamo ciò che ci serve. Attivate le difese e caricate tutto ciò che è rimasto sull'overcraft. Ce ne andiamo. Grave trauma rilevato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Versaglio ad alto rischio rilevato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti stai medicando, agente? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mastino rilevato. Stato, stato inattivo. Agente, connetti l'ISAC al mastino. Forse possiamo controllarlo da qui. Ci aiuterà a superare i fumi tossici. virus eclissi rilevato. Dov'è? No! No! Merda! Devo muovermi. No! Marta! Piazza la trappola riparatrice sul mastino e resta vicino. Io creo un passaggio attraverso il tumore. Ora ci divertiamo. Piazza la trappola riparatrice. Piazza la trappola riparatrice. Virus eclissi rilevato. Piazza la trappola riparatrice. 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 Non è ancora finita. Piazza la trappola riparatrice. Cazzo, non è morto! Cazzo, non è morto! Cazzo, non è morto! Vedo che anche il nostro Gustavo è appena entrato in live, ragazzi! Sì! 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 Our многие supporters! Sì! 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 ci mancava solo una delle tante tempeste di washington scorta chimica elimina le scorte rimanenti e poi sistema per ristrutturre cittadini Sì. scorte chimiche distratte dovrebbero essere finite hornet ha lo scoperto fallo fuori vattene subito non potete sconfiggerci lo spirito di filer vivranno per sempre 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 ma finché ci sono altri traditori pronti a raccogliere l'eredità di kiner il virus eclissi resta una minaccia comunque ottima scoperta la trappola riparatrice sarà utile non 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 La vita è inserita! Gli ostili ne hanno abbeccato uno Provano ad aggirarci Eccoli qui Grave trauma rilevato Parametri vitali assenti No vedo che anche Ruff e Panzer sono appena entrati in line ragazzi Ok Questo l'abbiamo fatto Questo pure l'abbiamo fatto Ok 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 Sì. 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 Oh, mamma mia. Sì. 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 Agente necessita supporto. Sì. Combattenti allegati vicini. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Ecco fatto. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti.